Oggi la segnalazione che sto ponendo alla vostra attenzione mi irrita davvero, perché poi vedere gente che si fa male per le inefficienze dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione Melucci, è un qualcosa che davvero crea uno stato di rabbia, di amarezza. Ci troviamo in Via Icco, vedete il manto stradale è completamente disastrato, dissestato, buche, rattoppi e quant'altro, sembra una gruviera, un campo di golf, chiamatelo come volete e alcuni giorni fa, proprio qui dove vi è questa buca, l'asfalto praticamente è venuto meno e si è creata appunto questa buca, il manto stradale, vedete il livello tra manto stradale e buca e c'è un dislivello almeno di un 7-8 cm e proprio in questa buca è caduto un giovane, stava camminando un ragazzo di 16 anni, lo vedete anche dal referto, è inciampato ed è caduto. Ha riportato una distorsione dei danni alla caviglia, la situazione, quanto accaduto è testimoniato anche dall'intervento del 118, è arrivata l'ambulanza e ha dovuto soccorrere il giovane. Quindi portato in ospedale è stato sottoposto agli esami del caso che hanno prodotto questa diagnosi. Immaginate se al suo posto vi fosse stato un anziano ed è un giovane, un ragazzo di 16 anni, cade e riporta dei danni. Immaginate, dicevo, una persona più attempata negli anni. È giusto quindi, fa bene il giovane, la famiglia del giovane ad agire nei confronti dell'amministrazione comunale per richiedere appunto il risarcimento dei danni subiti. Chi sbaglia paga e però a pagare siamo noi cittadini alla fine, perché quando paga il comune in effetti siamo noi e tutto avviene con le casse comunali, ma le casse comunali sono riempite con i nostri soldi. L'amministrazione comunale è molto, ma molto attenta e rapida quando ci deve chiedere le tasse, quando il cittadino deve versare. È attentissima, però conosce i propri diritti, ma non conosce l'amministrazione i propri doveri. E uno di questi doveri è rendere servizi al cittadino, servizi anche di strade e marciapiedi idonei. Quindi quantomeno atti a non riportare danni come nella fattispecie è accaduto. Mi fa rabbia vedere una situazione del genere. Vedete, qui non stiamo strumentalizzando, stiamo parlando di una situazione che è certificata. Ci sono i referti medici che parlano chiaro. C'è l'intervento del 118, c'è un giovane, c'è un ragazzo che poteva stare bene e bene appunto non è stato. C'è l'apprensione, ovviamente c'è stata l'apprensione della famiglia. Io da consigliere comunale dell'opposizione, di opposizione andrò sempre in giro per la città a fotografare, a registrare queste situazioni e pretenderò risposte. Melucci, svegliati, non parlare di favole, di transizioni, dacci il minimo. Il minimo significa almeno avere delle strade decenti. Strade che sono tutt'altro che decenti, sono dei percorsi di guerra. Che vergogna!